Buongiorno a tutti, ben ritrovati, tanto per cominciare voglio ringraziarvi perché in tanti avete rivisto i video della serie Muo Ricordo, che era una serie che veniva pubblicata sul canale di Nick Giallorosso, direi un anno e mezzo fa, una roba del genere. Comunque le storie proponendo, questi video due al giorno, alla sera vengono editati e poi si troveranno tutti in una playlist. Questo verrà fatto per una decina di video, 10-12 video riproposti che erano sul canale di Nick e poi ci saranno nuovi contenuti perché diverse persone mi hanno chiesto di fare altri video sulla storia della Roma, insomma, sui miei ricordi o in generale sulla storia della Roma. Fine discorso. Ragazzi, le notizie non sono buone e non è vero niente che la Roma ha fatto un'offerta per Coup Miners. Ieri, io non lo so, non so se certa gente ha veramente notizie o le spara così per fare visualizzazioni, però non è vero. Purtroppo, guardate, a me dispiace tantissimo perché la vedrai quasi come una sconfitta personale se non provassero a comprare Coup Miners. Credo veramente che c'è più di così, cioè ho portato il nome sul web da mesi, mesi e mesi, mi sono andato a vedere le partite, so tutto di lui. So che ha un accordo con l'Atalanta ma che a parità di ingaggio lui preferirebbe venire a Roma perché è un discorso di qualità della vita, ne fa lui con la sua compagna, gli piacerebbe vivere in una città di arte. Insomma, voglio dire, tra vivere a Roma e vivere a Bergamo c'è una bella differenza, nonostante anche Bergamo sia una bella città, però c'è un paragone veramente improponibile, come dire, che ne so, New York e Frosinone, mi capite insomma, no? Vabbè, comunque se la Roma non si muove Coup Miners va a finire purtroppo all'Atalanta e sarebbe veramente un colpo al cuore. Altre notizie non ce ne sono, i centrocampisti sono Damsgaard della Sampdoria che Ferrero sta tentando di piazzare, poi c'è il danese Delaney, Zaccaria, insomma tutti i nomi di ripiego, tutti i nomi sensibilmente meno costosi di Coup Miners, che sarebbe un vero e proprio investimento, ricordo che con 20 milioni si porta a casa e con un ingaggio di un milione e mezzo si porta a casa. I Friedkin pare che si siano impuntati, che prima vogliono cedere ai giocatori e probabilmente partirà un centrocampista tra Darbo, Villar e Diavara, se si degna di accettare delle destinazioni, perché pensate che questo ha addirittura rifiutato il Wolverhampton Premier League, cioè io non lo so, più di così. Poi il discorso esuberi è sempre lo stesso, abbiamo queste vere palle al piede che svernano a Trigoria con un allenamento al giorno, e niente, voglio vedere se si sentono ancora dei calciatori o si sentono dei professionisti e magari possano trovarsi da soli una squadra o accettare qualche destinazione, visto che anche loro sono abbastanza di palato difficile. Ragazzi, altre notizie non ce ne sono, come al solito le daremo, le darò se ci sarà qualcosa di sensato, di importante, e soprattutto di sensato, non stupidaggini. Qua io mi sono imposto di tentare di non fare video con titoli clickbait, perché non mi sembra veramente caso, anche perché io ho pochissimi iscritti, non monetizzo un cazzo, quindi veramente parlo con voi come parli al bar ai miei migliori amici. E spero anche che questo venne apprezzato. Iscrivetevi al canale e condividete il video, fatemi sapere se c'è qualcosa che vi piace o qualcosa che vi piace di meno. Io vi saluto a Forza Roma e speriamo bene, speriamo un qualcosa di figo che ci dira un pochettino sul morale. Ah, una cosa, sono le 10, tra due ore su Sky Sport potremo vedere l'ennesima amichevole della Roma. Saranno le 11 in Portogallo con un caldo bestiale. Io non so veramente perché l'hanno fatta a questo orario questa amichevole col Belenenses. Comunque vedremo i giocatori sciogliersi al sole dell'Algarve. Ciao a tutti, Forza Roma!